buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì primo febbraio 2024 fa freddo fa freddo zero gradi la temperatura ne parliamo dopo comunque la giornata poi si riscalderà con l'avanzare del giorno insomma il freddo della notte poi sarà superato da qualche grado in più durante la giornata ma intanto vediamo chi è il santo del giorno oggi oggi si festeggia santa brigida santa brigida una santa irlandese visse tra il quinto e il sesto secolo e dopo san patrizio in irlanda viene santa brigida insomma è la santa più venerata in questo paese badessa nel monastero di kildare un monastero che sorge a 60 chilometri da dublino svolse una efficace opera di diffusione della religione cristiana e durante la sua esistenza compì diversi miracoli compreso uno simile alle nozze di cana quello che compì gesù tramutando l'acqua in vino ebbene brigida spillò una spillò birra da un solo barile pensate per 18 chiese tante che ne bastò dal giovedì santo fino alla fine del periodo pasquale insomma questo è quanto si racconta di questa santa che ha lasciato una grande impressione in tutto il popolo irlandese ed ora vediamo le previsioni del tempo condizioni di tempo ancora buono sulla nostra regione ma con una nuvolosità medio alta in transito tra il pomeriggio e la sera insomma il tempo si condurrà come nella giornata di ieri le temperature sono stabili da zero come dicevo prima a 9 gradi la massima i venti sono deboli sulle coste da ovest nord ovest nell'entroterra da sud ovest e temperature però dovrebbero ancora calare e il sole il sole sorge alle 7 26 e tramonterà alle 17 e 14 le giornate piano piano si stanno aumentando per quanto riguarda la luce del giorno e questo è per quanto riguarda le previsioni del tempo e ora possiamo aprire i giornali per dare una lettura sulla sentesi delle notizie a cominciare dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo che c'è una notizia che riguarda la sanità la stessa apre oggi la prima pagina di Fano del resto delle Carlino leggiamo entrambi i titoli si sperimenta al pronto soccorso il braccialetto per i pazienti fragili questo il Corriere e vediamo il Carlino SOS per i pazienti fragili al pronto soccorso il braccialetto smart che cosa si tratta si tratta di un braccialetto tipo orologio che potrà monitorare e geolocalizzare costantemente i pazienti che accedono al pronto soccorso molte volte accade che qualcuno spazientito dalla lunga attesa poi se ne vada con tutte le conseguenze per la sua salute ebbene appena però entrerà nel pronto soccorso e quindi farà riferimento al triage verrà dotato di questo braccialetto al polso e che potrà essere costantemente seguito tramite appunto il meccanismo della tele rilevazione dai medici dello stesso reparto parte il pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce una sperimentazione unica nelle Marche che consentirà di tenere sotto costante controllo i pazienti fragili ovvero le persone con demenza senile Alzheimer con problematiche psichiatriche oppure pediatriche coloro che accederanno al triage in queste condizioni riceveranno il braccialetto dotato di sensore che attraverso la teleassistenza potrà geolocalizzare e monitorare da remoto le loro condizioni ebbene questo è un progresso dell'assistenza medica del nostro territorio è un progetto in via sperimentale è stato scelto proprio il pronto soccorso di Fano perché il pronto soccorso vanta la seconda posizione per quanto riguarda il numero di accessi al reparto in tutta la regione Marche la prima è il torrette di Ancona la seconda è il pronto soccorso dell'ospedale di Fano pensate che insieme a quello di peso lo vanta oltre 100 ingressi al giorno quindi sono tante le persone che fanno riferimento alla porta di ingresso dell'ospedale tra l'altro è anche questo il pronto soccorso e poi vediamo la notizia del giorno vediamo la notizia del giorno perché oggi è un gran giorno per tutti coloro che amano il nuoto che amano la piscina e che potranno usufruire tra poco della grande del grande impianto natatorio è stato realizzato dalla fondazione Califano nei pressi dell'aeroporto sarà lo stesso ministro allo sport e l'onorevole a body Andrea a body che condividerà il taglio del nastro con tutte le autorità del nostro territorio a partire ovviamente dal presidente della fondazione Giorgio Gragnola e dal sindaco di Fano Massimo Seri ci sarà anche Francesco Acquaroli anche l'onorevole Mirko Carloni e poi anche il vescovo Andrea Andreozzi che darà la sua benedizione ai nuovi locali ebbene però la piscina entrerà in funzione così come ha dichiarato il presidente dell'associazione Fano Fortuna e Nuoto Giorgio Ricci il 25 febbraio prossimo è una domenica ci vuole ancora un po di tempo per mettere in funzione tutto il procedimento del cloro dell'attivazione dei tornelli in modo che poi la piscina sia veramente pronta ad accogliere il pubblico. Giriamo pagina e vediamo le altre notizie. Nella seconda pagina del Corriere Adriatico si parla dell'accordo che è stato raggiunto con i sindacati che tutelano gli interessi degli educatori socio-pedagogici dell'ambito sociale numero 6 ma questo accordo viene contestato dagli stessi operatori. Quell'accordo è offensivo hanno detto sconfessati i sindacati gli educatori socio-pedagogici contro l'intesa firmata noi siamo stati tagliati fuori hanno dichiarato più che un accordo sugli aspetti contrattuali degli educatori si tratta veramente di un disaccordo. Ebbene l'idea era di partecipare al tavolo tecnico per concludere questo accordo sull'adeguamento contrattale e di valutare anche un'eventuale disponibilità verso le istanze che gli operatori avevano elevato. Tuttavia questo non è avvenuto. Nella successiva fase di contrattazione gli educatori sono stati completamente esclusi dalla discussione della delibera che ha avuto come unici interlocutori i sindacati ed ecco perché gli stessi operatori quelli coloro che devono poi ricevere il rispetto dei loro diritti hanno contestato quanto avvenuto dagli stessi sindacati. La via della seta si afferma tra i cuochi amatoriali. La via della seta è una bellissima e attiva associazione che opera a Lucrezia. Ha partecipato a tanti interessi e ha partecipato anche al concorso amatori bandito dal Baccala Fest. Questa iniziativa interessante di carattere gastronomico dell'associazione i viandanti dei sapori e ha primeggiato ha vinto appunto il concorso. Un concorso che si è svolto alla lanterna di Metauriglia e c'erano ben sette concorrenti. L'associazione di Lucrezia prima nel preparare il bacalà con una ricetta molto molto tradizionale senza tanti fronzoli. Il bacalà con le patate, con i pomodori, con le olive. Insomma un piatto veramente succulento. E questo si inquadra poi in quell'iniziativa che i viandanti dei sapori hanno realizzato in tutto il territorio per promuovere questo piatto contadino. Un tempo povero oggi molto ricco di sapore, come abbiamo detto più volte. L'Africa chiama lotta contro il colera in Zambia. Ebbene in questo paese sfortunato che ha tanti problemi da risolvere, problemi di carattere sociale, problemi di carattere culturale, di carattere economico soprattutto, ebbene ora è arrivato anche un problema di carattere sanitario. Si è diffuso il colera. E sono tanti, sono tanti veramente gli ammalati. Pensate che in una sola settimana nella capitale Lusaka sono stati oltre il 70% le persone ammalate e del 175% addirittura le vittime. Sono veramente tante tante le persone che per mancanza di medicinali per una situazione sociale veramente deplorevole si ammala di questa malattia che poi è mortale, insomma conduce alla morte. La ONG fanese, l'Africa chiama, è impegnata in questo periodo a Lusaka, capitale dello Zambia, per contenere gli effetti dell'epidemia di colere che si è sviluppata. E in questo articolo, pubblicato appunto dal Corriere Adriatico, ci sono tutti i riferimenti per chi volesse fare delle donazioni e aiutare i volontari per sostenere queste persone che ne hanno veramente tanto tanto bisogno. Passiamo a Fossombrone. A Fossombrone il sindaco ha realizzato una convenzione con l'Auser per la gestione dei musei e quindi l'Auser si associa anche con la Confcommercio. Il comune di Fossombrone coinvolge i volontari. C'è stato un altro passo avanti, stavolta in sintonia con il mondo del volontariato, per incentivare la promozione turistica di Fossombrone. Volontariato e promozione turistica un binomio che funziona, lo ha affermato lo stesso Francesco Amadori che è funzionario del comune nel momento in cui è stata firmata la convenzione con l'Auser per il supporto nella gestione delle strutture museali. E quando anche il mondo del volontariato si associa a prestare questi servizi, questi funzionano di più nell'interesse di tutta la comunità, sono più disponibili, sono più coinvolte, sono più interessanti per attirare gente e quindi fare attivare poi tutto il resto, commercio, turismo, assistenza, alberghi e via dicendo. Gatti randaggi sterilizzati, applicato un chip, siamo sempre a Fossombrone, è stato avviato un programma della Giunta per contenere le nascite ed è stato fatto in un modo che non desta nemmeno proteste da parte degli ambientalisti. Due giovani arrestati in un negozio avevano con sé un telefono rubato, questo è accaduto a Marotta, fa parte di un blitz compiuto nella notte da parte dei carabinieri. Dopo alcuni colpi, quattro furti in casa a segno oppure sono tentati, presi con il telefono rubato, nascosti in un negozio. Si tratta di due giovani originari di Polonia e Russia, uno di 18 e l'altro di 19 anni. Sono stati individuati da un blitz compiuto dai carabinieri, dalle forze dell'ordine, che erano già sulle loro tracce, perché anche in precedenza c'erano stati episodi su cui indagare. Posti agli arresti incensurati sono stati entrambi destinati ai domiciliari. E poi vediamo la pagina di Senigallia, dove troviamo dei ragazzi che con questo bellissimo clima fanno un bagno al mare. E allora viene l'idea agli operatori turistici, se il nostro inverno così freddo viene considerato mite da coloro che abitano nei paesi del nord, Norvegia, Svezia, Finlandia eccetera, allora perché non incentiviamo anche nella bassa stagione la nostra promozione in questi paesi? Ebbene è una idea da valorizzare, soprattutto da attuare. Tuffi dei norvegesi sul mare d'inverno, destagionalizzare per sopravvivere. Il video dei turisti in acqua accende il dibattito. Tassi, rappresentante di Assotel, dice intercettare il target del nord Europa. In realtà pensate erano sei bambini, sei ragazzini che facevano il bagno perché da loro la temperatura è molto molto più bassa rispetto al nostro territorio e qui sembrava di essere veramente in primavera. In realtà noi tremiamo per quanto riguarda fuori dell'acqua, pensate cosa deve essere all'interno dell'acqua. Ebbene dopo questa notizia andiamo a Pesaro e vediamo come si cerca di accelerare l'iter per avere i fondi per le aree alluvionate che sono ancora in attesa. Ebbene ci sono i fondi, ci sono i fondi per giungere in soccorso a chi ha subito dei danni, sia al pubblico che il privato. Il Ministero infatti ha messo a disposizione 50 milioni di euro per l'intervento che riguarderà i comuni di Toscana, Emilia Romagna e anche le Marche. I settori interessati per quanto riguarda le aziende sono il manifatturiero, l'agroindustria, l'estrativo energetico, i servizi alle imprese e il turistico alberghiero. E chi sono i comuni beneficiati nel nostro territorio? Sono innanzitutto Fano, Pesaro, Gabicemare, Urbino, Sasso Corvaro, Auditore, Montegrimano Terme e Montelabate. E per accedere ai benefici non occorre essere stati danneggiati dagli eventi atmosferici, ma proporre progetti per il rafforzamento competitivo e al mantenimento o alla crescita occupazionale. Quindi si tratta dello sviluppo economico. Quindi tutti possono fare dei progetti interessati per vivacizzare il territorio. Un milione è il costo minimo di ogni singolo progetto. Ebbene qui abbiamo Alessandra Baronciani che ha illustrato questa iniziativa e ha appunto attivato anche la parte del privato ad accedere a questi fondi. Giriamo ancora la pagina e parliamo dei rifiuti. Ecoisole smart, sarebbero le ecoisole intelligenti, ora si fa veramente sul serio a Pesaro. Sabato lo switch in centro storico. Multiservizi consegna 5.000 card, ma coprono solo l'80% degli utenti coinvolti. Giro di vite sulla sosta. Ebbene anche i cassonetti hanno bisogno di spazio e quindi lo si contende con lo spazio adibito ai parcheggi. Comunque è importante questa iniziativa di distribuzione delle tessere strata card di tipo smeraldo consegnate agli utenti domestici del quadrivio sono più di 5.000. Da lunedì 5 febbraio si conferisce solo nelle 23 ecoisole smart attivabili con la card. Non ci saranno più i cassonetti che si aprono semplicemente buttando dentro i rifiuti. Ci vuole veramente la tessera personalizzata. Ed ora questo è un cambiamento che è in atto da diverso tempo e ora lo si sta eseguendo in maniera proprio concreta, in maniera effettiva. E poi illustriamo questo nuovo progetto per il trasporto. È stato attivato anche nel nostro territorio dalla regione Marche. Si tratta del Bus Rapid Transit, un'alta velocità su gomma. Un trasporto più celere, più funzionale, più esatto e più puntuale, soprattutto per quanto riguarda i percorsi. L'infrastruttura debutterà a Vallefoglia. L'assessore regionale Baldelli ha detto che la regione investe 11 milioni. È una soluzione, questa del tutto innovativa, del territorio marchigiano. È uno dei primi progetti a livello nazionale. Il Bus Rapid Transit, al servizio di uno dei distretti industriali più estesi delle Marche, quello di Pesaro-Vallefoglia, per ottenere una più efficienza del trasporto pubblico. Gli autobus a transito rapido sono veicoli elettrici di ultima generazione, capaci di ricaricare le loro batterie durante il viaggio. e sono inseriti in un sistema di fermate moderne, tecnologiche, facilmente accessibili e sicure per quanto riguarda la scorrevolezza del trattico. Quindi un aumento di gradimento in più per quanto riguarda questo servizio. Ed ora diamo un'occhiata anche al resto del carlino. Abbiamo visto la prima pagina, l'articolo di apertura, ma vediamo anche questo articolo di spalla. Sappiamo che è deceduto Monsignor Deglio Lucarelli, Vescovo di Rieti, è un vescovo, un sacerdote, che è originario della nostra diocesi e qui fa rientro per essere tumulato. Ebbene, ieri ha fatto la Salma il suo ingresso in Duomo a Fano. Oggi ci sarà una preghiera, domani il rito funebri. Oggi ci sarà anche la possibilità per tutti i fedeli di andare a visitare appunto la Salma che è stata messa in cattedrale. Don Deglio Lucarelli, Monsignor Deglio Lucarelli, è morto all'età di 84 anni. Aveva scelto di restare anche da emerito dopo aver guidato la diocesi di Rieti, affrontando tra l'altro le ferite del terremoto. Insomma, era rimasto nella sua diocesi fino all'ultimo. Però era rimasto sempre legato alla nostra città a Fano, sebbene abbia voluto terminare la sua vita nel capoluogo Sabino e ora ha fatto ritorno alla casa appunto dei suoi genitori. Niente liceo del Made in Italy a Fano, l'Apolloni-Nolfi declina l'invito. È una scelta che ha fatto sia il preside Samuele Giombi che il consiglio di istituto. Il nuovo indirizzo di studi, che poteva essere così compreso nella offerta formativa del liceo-Nolfi-Apolloni, è stato attivato solo a Pesaro e a Urbino. La scuola diretta da Giombi non si è nemmeno candidata perché sembrava al preside, ma anche al consiglio, come abbiamo detto, una proposta affrettata, incompleta e poco chiara. E qui abbiamo in questo articolo le ragioni per il diniego. Cantieri fermi come funghi, caos in città, non c'è rimasto più un parcheggio. E onestamente questa convulsa attività di carattere lavorativo che ha visto sorgere in città tanti, tanti cantieri, ha eliminato molti, molti parcheggi. E vediamo quali sono i punti sosta che sono stati al momento resi inagibili. Ebbene, tutto lungo Viale Gramsci perché lì c'è il Carnevale, non c'è nessun lavoro. Addirittura è stato reso inagibile anche il parcheggio dello Sferisterio dove sono stati sistemati i giochi del percorso carnevalesco. E poi Piazza Andrea Costa. Piazza Andrea Costa attualmente è in atto il cantiere per la sua valorizzazione di arredo e anche lì i parcheggi sono stati eliminati. E le bancarelle che erano in quel punto sono state spostate in Piazza Veduti dove c'erano parcheggi e anche lì i parcheggi sono stati eliminati. E poi i parcheggi di Piazza Marcolini non ci sono più perché lì ci sono i lavori per il restyling della piazza. Insomma, veramente sono venuti a mancare molti, molti posti macchina soprattutto in centro storico e questo desta un po' la protesta e il risentimento del comitato del centro storico stesso. E qua poi abbiamo una critica su questo articolo di spalla che manifesta il conte Lupo Bracci che contesta la vasca in ceramica bianca che è stata sistemata in Piazzale Marcolini attorno alla stele realizzata dagli studenti della Polloni un tempo collocata nei giardini di Piazza Ammiani. E poi che cosa accade all'anfiteatro Rastat dove erano iniziati i lavori di demolizione ma che i lavori si sono fermati. Se lo chiedono cittadini e operatori è ormai dall'inizio di dicembre che non si vedono operai in azione. Sono in corso dei controlli hanno detto dall'amministrazione comunale ma nessuno si vede a fare questi controlli e quindi perché ci si dilunga tanto non si vorrebbe poi che in estate tutto rimanesse così sconvolto come si trova al momento. Sulla pagina di Urbino sul caso capoluogo interviene ancora il sindaco Maurizio Gambini che evidenzia la bontà del risultato ottenuto e ringrazia anche il sindaco Matteo Ricci di Pesaro che non ha voluto opporsi quindi c'è stato anche un percorso più agevole per ottenere questo risultato. A Marotta un caso di cronaca molestie della Croce Rossa patteggia l'autista 63enne. L'uomo era stato accusato da due ragazze straniere volontarie che prestavano servizio nell'ambulanza tra l'estate del 2022 e l'aprile del 2023. L'uomo ha patteggiato un anno e sei mesi con sospensione della pena pur di mettere fine al procedimento giudiziario che lo avrebbe portato alla sbarra per violenza sessuale. E quindi si è conclusa in questo modo la vicenda giudiziaria. Ai lavoratori del Balì 200 euro in più in busta paga conclusa la trattativa sul contratto dei dipendenti diminuisce anche l'orario la soddisfazione della funzione pubblica della CGL 200 euro in più in busta paga insomma non sono nocciolini. e poi torna il carnevale anche a Mondavio nuove carri pronti a sfilare appuntamento domenica prossima alle 14.30 con le mascherate l'animazione e gli stand gastronomici anche Mondavio nell'entroterra ha il suo carnevale ed è un carnevale molto molto partecipato e poi il contesto paesaggistico di questo colle dove c'è un borgo mediovale è veramente suggestivo. E con questo noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi un appuntamento domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle ore 20.30 di questa sera su Occhio alla Notizia il telegiornale di Fano TV e questo è tutto a risentirci. a siamo a a a a a a a Grazie a tutti.